Eh? Controllo! Ho un segnale audio! Vado a controllare! Eh? Controllo! Serve una verifica su quel rumore! Eh? Controllo! Chiedo rinforzi! Resta sul posto! Ho inviato unità nella tua direzione! Eh? Ora devi averlo sentito! Eh? Mi serviranno altre unità qui! Le unità di rinforzo vengono verso la tua posizione! Meglio tornare indietro! Eh? A tutto il personale di sicurezza! Tornate ai vostri posti! Eh... E cade a terra! Adesso comanda lui, ma prima o poi... Ah! Tornate ai vostri posti! Grazie a tutti. Sai Anya, adoro questi rari momenti in cui non puoi rispondermi. Grazie a tutti. Ho inviato unità nella tua direzione. Eh? Possiamo provare il tuo nuovo strumento per Calanti. Perché è cambiato? Si chiama progresso. Ora fai attenzione. Trova un punto d'appoggio sul bordo del tetto e attiva l'equipaggiamento. Puoi camminare lungo il muro, ma farai... Ania, se vuoi guadagnare qualche soldino in più, avrai del lavoro extra per te. Va bene. Cos'è? Un cliente ci ha chiesto di fotografare l'ubicazione di tre casseporti in questi uffici. Ma verremo pagati solo se li fotograferai tutte. Tutte e tre? Ok. A tutto il personale di sicurezza, tornate ai vostri posti. Ok. 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 Sì, sì, sì. Spero che vada bene fare una pausa per la partita. Sì, certo. Ho chiesto al supervisore. Ehi, comincia. Mantieni la posizione. C'è qualcosa. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sono ussd去 що da qualche parte. Dei lavori hanno esposto lo strato interno di quel muro. Prova a ricavarvi un'apertura. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A tutto il personale di sicurezza. Tornate ai vostri posti. Controllo, chiedo rinforzi. I rinforzi sono in arrivo. Eh? C'è qualcosa lì? Niente. Tutto libero. Andiamo. A tutto il personale di sicurezza. Tornate ai vostri posti. Anja. È impossibile passare da lì senza la scheda giusta. Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.